Sì, perché non voglio cambiare di modo, ho provato una volta, ho passato bene, seconda, tre, quattro, cinque volte, io non voglio di cambiare lo smonito, sai, hai capito? Non voglio cambiare, è passato cinque volte tranquillo, continuiamo con lo smonito, stesso modo, punto, non si cambia nulla, ma prima di fare di vista, eccetera, vi spiego ancora, ancora come si fa, ancora, che papiri mi serve, eccetera, 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 sì, in agosto è pronto, ho il libro.